giorno 2 lo scopo di questa mia zingarata è vedere dal vivo i quadri di pietro da talada un pittore che io ho scoperto nell'ultimo anno che era noto come maestro di borsigliana poi si è scoperto che non era di borsigliana a voi non mi ne frega niente a te che guardi non te ne frega niente a me è una cosa che è appassionato sto cercando tutte le pubblicazioni che riesco a trovare solo che la chiesa è chiusa non so chi cazzo chiedere perché non c'è anima viva mi sa che bisognerà venire qua per vedere i quadri durante la funzione domenica o se no ci sarà qualche numero qualche prologo così ma io sono specializzato nel girare totalmente a casaccio per cui per il momento è tutto vittorio nel comune di Camporagiano, Garfadiana, Lucca, Italia e ci sarà un'altro Forse.